L'inizio dei lavori questa mattina su via Salvatore d'Erenzi ha fatto venire fuori una serie di criticità non di poco conto, tante le unità che il comune di Salerno ha inviato sul posto per riuscire ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza del costone che incombe sulla strada in un tempo consono per poter procedere alla riapertura dell'arteria stradale nel più breve tempo possibile, ma quando gli operai sono entrati in azione in mattinata ci si è resi conto di problemi che non erano attesi. La deadline inizialmente indicata per la riapertura della strada rimasta chiusa dopo l'incendio del 31 luglio sul Colle Bonadies e quindi l'inizio del nuovo anno scolastico non potrà essere rispettata agli smottamenti del terreno nel momento in cui si è proceduto al taglio delle alberature la faranno infatti slittare più avanti. Fondamentalmente la messa in sicurezza del costone, ovviamente stiamo parlando di un'area molto grande, innanzitutto devo ringraziare i tecnici del mio settore che fino a ieri sera hanno lavorato affinché stamattina fossero possibili i lavori, facendole determine di affidamento. È evidente che ci saranno dei tempi tecnici necessari perché la strada sarà riaperta soltanto quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Quindi mi rendo conto delle criticità e dei disagi avvertiti dai cittadini, ma come amministrazione avevamo l'obbligo e la responsabilità di aprire la strada nel momento in cui ci sono le condizioni di sicurezza. Che tipo di operazioni sono state già svolte in queste prime ore e quali criticità sono venute fuori man mano che si lavorava? Allora al momento sono state tagliate come si può vedere delle piante, è evidente che ci sono degli smottamenti del terreno che sono controllati in questo momento, vediamo man mano nelle prossime ore come risponderà il terreno man mano che si andrà avanti con i lavori e se ci sono le condizioni, ripeto, garantiremo almeno i flussi necessari per la sicurezza cittadina. L'impresa stamattina quando è iniziato i lavori ha fatto delle indagini e delle verifiche, ci sono delle criticità importanti per la risposta del terreno e anche del muro di contenimento. Stanno lavorando molte unità per cercare di accelerare quanto più possibile i tempi, ci rendiamo conto dell'esigenza che c'è nel territorio, soprattutto per l'apertura prossima delle scuole, ma abbiamo, ripeto, l'obbligo di lasciare, diciamo, di aprire la strada nel momento in cui ci sono tutte le condizioni di sicurezza. Entro la fine di questo mese? Io spero in un tempo ragionevole, in questo momento non sono in grado di garantire con certezza quanto è quest'arco temporale, ma spero prima possibile. Qui c'è anche un comitato di quartiere che sistematicamente mi hanno contattato affinché accelerassimo le procedure. Noi abbiamo temperato a tutto secondo la legge e chiaramente ci sono i tempi necessari, ripeto, mi rendo conto del disagio, però a me è un altro po' di pazienza.